è arrivato anche giù con l'XR, grandissimo eccoci qua ragazzi, stiamo salendo verso le torri di 3 e le laghe di Mancano io sono con il multistrada di Marco e Marco sta pelando il mio tenere va che bello il tenere, oh, mamma mia, va che bello allora vi devo dire, bello il multistrada però allora se hai il piede sulla pedana con il tacco sei sopra a cavalletto no, 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 cioè, no, no, secondo me no poi sei troppo incassato, non lo so, non mi è piaciuta non lo so, sono rimasto male non lo so, non lo so giornata fantastica peccato per le moto di merda però va cariare non lo so, non lo so non lo so, non lo so guarda che piova la mano, già fai? posso? che diverti Grazie a tutti.